La bestia sta arrivando e io sarò pronto, non importa quale prezzo. La milizia ha cambiato questa città, niente più come prima. Ah, ti ricordi? Eh già. I ricordi! Sì, sì me la ricordo mio mare. Sono venuto qui quattro anni fa quando stavo imparando ad arrabbicarmi. Dopo l'alluvione metà degli edifici furono abbandonati ed era un paradiso per l'esplorazione urbana. Perfino Zeke si era fatto coraggio e aveva provato. Era una pacchia. In ogni altra città inizia ad arrabbicarti e non passano dieci minuti. Michi aveva dei capelli. Ma qui cazzo, la polizia aveva ben altro a cui pensare. Era un posto senza legge, ruso del vizio e a parte le debite conseguenze, era un vero paradiso dimenticato da Dio. Ora no, non più. Ora questi stronzi ignoranti fanno le ronde per strada e squadrano chi che sia in cerca di mutanti da punire. C'è tensione nell'aria. La gente qui è sul punto di esplodere. E da qualche parte, nascosta in questo splendido cadavere di città, c'è la chiave per amplificare i miei poteri. Questi coglioni vogliono fermarmi, uccidermi, per mantenere pura la loro città. Che si facciano avanti. Venite, stronzi! Zeke, se vedi un pericolo, sposta la barca. Sì, signore, super spia. Ah, ci sarà del movimento? La milizia sarà in allerta dopo lo spettacolo che hai dato alla... Eh beh, certo. Sì, mi incazzerei anch'io. Madonna, che belli già solo i volti di Infamous 2. Sarebbe stato più facile passare. Ehi, non voglio ammettere il rogo delle famiglie solo per semplificarmi la vita. Bene, è quello che volevo sentire. Hai fatto la cosa giusta. Sono colpita. Sei stato un vero professionista. Grazie. Andiamo a cercare Wolf. E andiamo a cercare Wolf. Sono tornata. Ho con me McRat. Bene, molto bene. Purtroppo però ho delle notizie non molto. Questo era anche il doppiatore del... Del primo vecchio che incontri in Darksiders 2. No, ho call. Esi call. Quo, non cadere. E colpisci lì con una granata. Kaboom. Vediamo, scusami un attimo. Pazzo, bastardo, maniaco. Dammi un po' di energia. Un colpo a bruciapelo. Eh, addio. Al tetto. Eh, muoviamoci. Se tu ti muovessi, può... Dio mio. Ti spiace, liberare me. Ottimo. West, look out e più avanti. Dai però, Quo. Dai. Muori, Mastro. Forza, ragazzi. Granata. Ma io posso distruggere... Ma io posso distruggere... I cosi da solo? Perfetto. Andati. Ce n'è ancora uno vivo, no? Andiamo. Ho bisogno di energia, aspettami. Allora, facciamo... Dove sei? Quo? Allora, facciamo una cosa... Un attimo intelligente. Mettiamo un attimo quelli base, perché al momento diciamo che il gioco è fisso che tu abbia i poteri normali e non questi qua incredibili da... Da DLC. Quo, però, cazzo, stai attenta, smetti di inciampare sulla gente e sui marciapiedi. Quo, i miliziani sono tornati. Stanno portando la porta del laboratorio. Non ci arrivo. Grazie. Ora sta solo a te. Il nucleo brida di un'idea di violenza e non puoi sbagliare. Lo troverò. Non ci arrivo. Per poco, tra l'altro. Dai. Preso. Dove dobbiamo andare? Che bello avere già questi poteri, queste migliorie del gioco, madonna mia. Oh, cool. Attenzione. Ok. Attento a dove cammini, madonna mia. Quanti, quanti modi in più per raggiungere cose. Allora. Facciamo, esatto, una cosa intelligente. Bravo. Pirla. Questo è esploso da solo. Questo è esploso da solo. No, dai. Non ci arrivano. Mi serve elettricità. Kaboom. Ah, perfetto. Ah, perfetto. Pensavo che cadessero a pezzi pure queste. Ecco fatto. Facile. Aspetta, fammi vedere se... No, non ci... Ah, sì, è caduto. Stavo dicendo non basta. Vola via. Ale! Kaboom. Morto. Ah, ma tu ancora vivo sei? Pum. Che soddisfazione. Aspetta. Vediamo se... Sì. Dai, ti prego. Fallo cadere. Ah, dannazione. Arrivo, signora. Certo che non ho tempo. Dammi un secondo. Ehi, voi. Due in un colpo? Ecco fatto. Tu, statene buono. Poi... Bravo, Cole. L'altro è morto? Sì. Che bella, New Marie, poi. C'è così tanta novità in tutto questo. Detto ciò, eccoci di nuovo qua. Apri e raccogli il pacchetto. Oh, Wolf. Ancora al laboratorio. Forse l'ho trovato. Ma che l'ho trovato? I frammenti. Oddio. Wolf! Che è morto? Bene. Sto arrivando. L'unico che poteva aiutarci adesso è esploso. Madonna mia, poi anche solo la miglioria nei movimenti. Che è tutto molto più veloce, molto più rapido. Che soddisfazione. Che meraviglia. Mi serve elettricità. Devo scendere. Perfetto. Vai. Prosegui. Per il momento stare a terra è la scelta migliore. Perché non ci becchiamo tutti i nemici. Esatto. Me ne sono schivati un bel po' in questo modo. Facciamo molto prima. Certo, ci becchiamo molti meno punti esperienza magari. Però, meglio che combattere quantità infinite di nemici. Che al momento sarebbero solo lì per farci fastidio. È stata una scelta più che ponderata, devo dire. Però, una cosa è certa. Questo è molto utile. Certo, è molto più a corto raggio. Però è più lungo il raggio. Certo. No, scusami, ho detto due cazzate in una. Nel senso, è più stretta, ma più lunga. Ah, sei vivo? Ottimo. A Kessler? Kessler. L'uomo che ti ha dato i poteri. Lo so. Chi è Kessler? Eh, certo. All'inizio eravamo amici. Mi ha parlato dei suoi piani su di te. E della bestia. Allora sa che ho fallito. Non l'ho fermata in Pyra City. È perduta. Sì, non si fermerà. Finché non accrescerai le tue abilità. E non sarai così potente. Sai che quasi tolgo i sottotitoli, tanto è l'italiano. L'inibitore di forza radiale. Io lo chiamo RF. È una specie di antiraggiosfera. Quindi invece di infondere i poteri, lui invece li toglie. Esatto. Con questo strumento, puoi combattere la bestia. e sottrarle ogni abilità. Tienilo al sicuro. Ottimo. E che mi dice? E lo metto in tasca. Che mi dice di questo? Un nucleo esplosivo. Da energia d'RFI. È una batteria con la stessa carica delle mutazioni genetiche. Attraversato dalla corrente. Riversa la sua energia sul conduit più vicino. Che siamo noi. E mi renderà più potente. Ma certo. E quello è solo il primo. Insieme sconfiggeremo la bestia. Ora basta chiacchiere, Wolf. Andiamoci dentro. Andiamoci dentro. E qual è la prima abilità che otteniamo? Il razzo. Certo che siamo belli che cotti, eh. Tanti sottotitoli sono piccoli, sono così. Di altri sei nuclei esplosivi per usare l'RFI. Eh già. 1822 chilometri. Minchia, ma si è fatto un sacco di chilometri, eh. Era 2004 prima, eh. Che è successo? La milizia è tornata. Cercava per portarvi via. Qua sta ancora inseguendo i tizi con Wolf. Quindi... Che è successo? Quel vecchio ti ha drogato. Ti ha scopato, eh? Ma io... In realtà credo di avere un nuovo potere. Davvero? Dai, fammi vedere. Che bello, zika, adesso. Mettiti in mostra, bello. Lancia un'auto. Sconfiggi una milizia lanciandogli un oggetto. Ah! Allora, aspetta. Andiamo ad aiutare sta gente prima. Vieni qua. Dove sei? Aspetta. Troppo. Ecco fatto. L'ho lanciato un po' troppo in avanti. Inerzia positiva. Ottimo, ottimo, ottimo. Attento, amico. Ho visto degli sbirri curiosare in zona. Con tutto il casino che hai provocato, ti staranno cercando. Ma pensaci bene prima di attaccarli. Ci sono degli alleati. Non dei nemici. Ma ti pare che mi metta ad attaccare la polizia? Mica sono cretino. Ma pensaci bene prima di attaccare la polizia? 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 Grazie a tutti.